Porte aperte al Dipartimento di Agraria di Avellino per la Notte Europea dei Ricercatori, un evento internazionale che riunisce Atenei e centri di ricerca un'occasione di incontro tra ricercatori e cittadini. L'occasione per l'Università, per i centri di ricerca, di aprire le porte ai cittadini. Quindi i cittadini vengono qui e trovano una serie di attività svolte appunto dai ricercatori sulle varie discipline, nel nostro caso che riguardano la vigna e il vino, e interagiscono con i ricercatori, quindi la scienza diventa un gioco, un divertimento. Ad accogliere gli ospiti della serata gli studenti del Dipartimento di Agraria dell'Università Federico II e la coordinatrice del corso, la professoressa Angelita Gambuti. Il corso di laurea triennale in viticoltura e enologia consente direttamente di avere il titolo di eneologo e quindi di esercitare la professione, il che è importante. Ad oggi ci sono già circa 200 enologi che lavorano, tra l'altro l'altra buona notizia per quanto riguarda il corso di laurea triennale e devo dire siamo tra i corsi di laurea per i quali c'è una delle percentuali più alte di assunzioni a un anno dal titolo. Il professore Blaiotta sottolinea l'importanza del corso di laurea nel territorio irpino. Lo scopo di questa università, in questo luogo, è per legarci a quella che è l'eccellenza del territorio, ovvero sia la viticoltura sostanzialmente, quella che ci interessa è l'enologia, essendo praticamente la provincia di Avellino l'unica da avere, penso, tre docge.